Ho piacere presentarvi una bellissima opportunità, il corso online I progetti della famiglia. In questo periodo la maggior parte di noi è a casa e sta trovando nuove attività e nuove esperienze da condividere insieme ai propri cari. Spesso nella routine quotidiana ci rendiamo conto di non avere il tempo per fare tutte le cose che vorremmo e oggi invece il nostro programma giornaliero è cambiato. Possiamo cogliere questo momento per dedicarci a una cosa nuova, a studiare come sviluppare le abilità personali in famiglia. Questo corso online presenterà come il gruppo familiare può aumentare l'abilità di collaborare al suo interno e come può realizzare dei progetti, sia progetti piccoli all'interno di una giornata ma anche progetti grandi nell'arco di anni. Una volta che la famiglia conquista una maggiore capacità di essere coesa e di collaborare per realizzare dei fini comuni, questa poi viene vissuta in modo spontaneo e del tutto naturale in tantissime esperienze. Vi invito ad aderire domenica 5 aprile, unitevi in questa bellissima iniziativa. Grazie 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 Grazie